oggi faremo del merluzzo del merluzzo fritto con della polenta si frigge il merluzzo con un po di sale e poi si fa la polenta ecco il merluzzo con il pangrattato e fritto questa è una specialità rumena che fanno qui in Romania pesce fritto con mamma liga polenta e aglio e aglio l'aglio c'è sempre ma l'aglio dove si mette? lo faccio separato perché l'aglio si fa separato si schiaccia e si fa tipo una crema con l'ustroi si chiama ustroi che è l'aglio poi vediamo ecco qui c'è l'aglio già preparato aglio schiacciato e con un po d'olio e si fa una salsina tipo tipo la maionese intanto il pesce sta coginando e qui faremo la mamma liga la polenta questo è già pronto invece qui c'è del pollo che trova ed ecco mamma liga con peste ustroi oggi siamo in famiglia qua c'è mamma mia antonio ecco qua il pesce oggi